Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nella serata di mercoledì 20 settembre 2023. Il popolare programma di informazione di Rai3. Chi l'ha visto? Ha regalato ai telespettatori un colpo di scena sorprendente e toccante. È qui, lo abbiamo trovato! Ha esclamato la conduttrice Federica Sciarelli. Annunciando la notizia più attesa di quella puntata. Il protagonista di questa storia è Gioacchino. Un 35enne originario di Caserta. Che aveva fatto perdere le sue tracce per diverse settimane. Gettando la sua famiglia nella disperazione. La madre del giovane. La signora Rita. Aveva lanciato un appello commovente attraverso il programma di Federica Sciarelli. Sperando di ricevere qualche indizio sulla scomparsa del figlio. La svolta inaspettata è arrivata durante la trasmissione. Quando una telefonata improvvisa ha sconvolto tutti. Un'aspettatrice ha chiamato in diretta per comunicare che Gioacchino si trovava in un ospedale di Milano. Gioacchino è qui. È arrivato ieri al pronto soccorso. Ha annunciato la donna visibilmente commossa. Il giovane. Dopo aver subito un misterioso incidente in cui aveva riportato gravi lesioni al cranio. Era stato ritrovato sui binari del treno. Fortunatamente. Grazie a un'operazione chirurgica delicata. Era riuscito a sopravvivere. Ma aveva perso la memoria relativa a ciò che gli era accaduto. Tuttavia. Il 5 settembre era nuovamente scomparso. Lasciando tutti a interrogarsi sulle circostanze misteriose che lo circondavano. Ora. Con Gioacchino ritrovato e in salvo. Le domande si sono moltiplicate. Perché è stato aggredito? Cosa è successo a Caserta il 5 settembre? La signora Rita e gli investigatori si trovano di fronte a un enigma che dovranno risolvere insieme. Cercando di far luce su questa faccenda inquietante. Il ritrovamento di Gioacchino è senza dubbio una buona notizia. Ma il mistero che avvolge la sua scomparsa e l'incidente rimangono ancora da svelare. La storia di Gioacchino continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Mentre si attendono ulteriori sviluppi e dettagli su questo straordinario colpo di scena. In un mondo spesso dominato da notizie negative, questa è una storia di speranza e riconciliazione che ci ricorda quanto sia importante non perdere mai la fiducia e l'ostinazione nell'affrontare le sfide più difficili della vita. Chi l'ha visto continuerà a seguire da vicino questo caso. Cercando di portare alla luce la verità che si nasconde dietro al mistero di Gioacchino. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.